Cari amici ben ritrovati, ancora per oggi nubi sparse su tutte le regioni. Possibili piogge sono proviste al nord, specie sulla fascia prealpina, mentre resta asciutto sugli altri settori con schierite. Bel tempo invece al centro, qualche addensamento potrebbe interessare l'alta Toscana ma con scarsi fenomeni piovaschi. Ed anche al sud soleggiate e stabili su tutte le regioni. Eventuali addensamenti avranno carattere locale e temporaneo e non saranno associati ad alcuna precipitazione. La ventilazione torna ad essere nel complesso debole, in regime di brezza, con clima un po' caldo rispetto al periodo. Ma vediamo il tempo di oggi sulla nostra provincia. Cielo sereno e soleggiato, con temperature in lieve ripresa, ma stabili nelle medie climatiche del periodo, comprese tra 27 e 18 gradi. I venti di deboli intensità soffieranno da nord e nord ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà ancora poco mosso. Sul versante tiranico bel tempo. Le temperature ancora poco sotto la media del periodo si porteranno sui valori di 25 gradi le massime con minimi di 19. Venti deboli soffieranno da nord e nord ovest e da nord nella sera ed il martireno sarà poco mosso. Ed anche sul versante ionico cielo sereno. Le temperature si porteranno sui 26 gradi diurni e minimi di 17 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord ovest ed il marionio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 5 ottobre, grazie a livelli di pressione ancora elevati, resta stabile e soleggiato sull'Italia. Solo eventuali piovaschi sono previsti in alcune zone del nord e del centro, ma di lieve entità. Su tutto il sud e sulle isole resta piuttosto caldo per il periodo, con cieli sereni e limpidi su tutte le regioni, con solo sporadici banchi nuvolosi tra Calabria e Tirenica e Sicilia nord orientale. I venti settentrionali saranno tra il debole ed il moderato e un nuovo aumento delle temperature è atteso sulla Sicilia con valori nuovamente oltre 30 gradi. Sul messinese ennesima giornata serena e soleggiata. Le temperature in nuova ripresa si porteranno 28 gradi diurni e minimi di 17 nella notte. I venti di debole intensità soffriranno da nord ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.